E ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Luca e oggi siamo qui su un prossimo video di Minecraft parte 2 Scusate Allora, incominciando mettendo il calcio sforzo bianco, qua 4, alzate 2 Poi con il calcio sforzo azzurro fate così E avrete questo Poi, sempre con il calcio sforzo bianco fate così No, così 2 E poi 1, 2 e 3 E con questo fate una L Avrete una cosa del genere Adesso, con il calcio sforzo bianco fate così Qua chiudete Così, no? Aspetta Così Fate così E qua fate così Per avere una cosa così Però mi sono dimenticato di chiudere così Ok E avrete una cosa così Poi fate così E avete chiuso il tutto E infine metto un blocco così No Perché devo fare così? Ok E avete questo Questa qua sarà la nostra casa Cioè, non è che l'ho finita Però dico la nostra struttura, cosa costruiamo oggi Fate così Poi, poi fate una cosa così Anche un'altra cosa Ok Va bene Adesso Con il nostro blocco portante di quarzo fate Tre 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 E tre Ok Adesso Mettete il nostro quarzo Mettete il quarzo Così C'è il calcio e struttura scusate Non il quarzo E chiudete Così Ok Adesso Qua fate così E Qua avrete una cosa del genere Così Poi Allora Fate Qua dove avete fatto il pilastro Fate Uno Due Tre Quattro E alzate anche questo E ovviamente Ho sbagliato Quattro E un affare del genere Anche qua dovete averlo chiuso Ok Così E dietro è così Ecco già sbagliato Così Ok Adesso Fate la stessa cosa da questa parte Soltanto dall'altro lato E quindi noi ci vediamo fra poco Ok Avrete una fare del genere Adesso fate così Allora Con questo Con il calcio e struttura bianco Fate Uno Due Tre Uno Due E uno E scusate Alzate tutto quanto E fate Tan 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 E poi così Avrete un affare così E poi fate Qua Fate Così Sì ok Giusto E fate Così Ok Per avere un affare del genere Adesso Dovete fare Con questo Intanto qua Mettete i blocchi Che vi sono Ok E fate La stessa cosa Come avete fatto prima E anche qua fate La stessa cosa Cioè Fate così Così E poi mettete i blocchi Ok No Adesso ci siamo Allora Dietro Deve essere Una cosa Abbastanza difficile Da fare Fate Uno Due Tre Quattro Cinque Poi Uno No Uno Due Due No Questo qua No Perché sbaglio In continuazione Due Due E continuate così Fino ad arrivare là E avrete Un risultato Così Adesso Qua Nei lati Le alzate di Quattro Per avere Un risultato Così E fate Anche questo Qua Così Uno Due Tre Quattro Ok Adesso fate così Spettate Spaccate Questo E Contrastate Così E fate Tutto questo D'altra parte Ok L'ho fatto Anche da questa parte Adesso fate così Chiudete tutto 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 Proprio In senso Ma perché Adesso Voi nei commenti Mi scrivete Perché Io sbaglio Cioè Proprio Mi date Un consiglio Non un consiglio Secondo voi Come Faccio a sbagliare In continuazione Poi Io Non è che sbaglio sempre Sbaglio soltanto Nei video Combinazione Perché le cose Quando voi siete off camera Non è che le sbaglio sempre Così Non è che failo Così No Faccio proprio bene Le cose Le faccio subito Quando non mi vedete Proprio Quando metto in pausa Il video Non lo so Perché Vabbè Cominciate a chiudere così Tranne questo qua Perché deve essere Minimo Altezza 2 E chiudete così E Vi faccio vedere Tutto quanto In camera Perché adesso Devete alzare E datemi un consiglio Anche per migliorare In senso Minecraft Adesso Qua col calcio e struzzo Fate così Valtete tutto quanto Di due Così Ok No 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 Qua ho sbagliato Ok E È un Cioè Questa casa È abbastanza difficile Da fare Perché l'ho provata Anche in un altro mondo Che però adesso Ho tolto E fate così E finite Tutto quanto Così Ci vediamo dopo Ok Ho fatto Tutto Così E adesso Vi basterà soltanto Chiudere il tutto Proprio Così Questi qua Li fate tutto così E ci vediamo dopo Ok Il tetto L'ho fatto È venuto così Poi ho aggiunto Questi blocchi neri Anche lì Potete farlo Come volete Il colore Oppure Fate come Volete Il tetto Io l'ho fatto In questa maniera Detto che la casa È un po' buia E ovviamente C'è soltanto L'entrata Voi Fate Cioè Fate Scambiate Questo Con Dei vetri Non qua Però Dei vetri Qua così Neri Io ho scelto il nero Perché il nero Sta bene Sia con l'azzurro Che con il Cioè Il nero si abbina Con tutto E Il pavimento Lo dovremmo fare Si fa sempre Bianco Oppure come volete voi Adesso Mi sono dimenticato Di prendere Un'altra cosa Importante Scusate Ho tossito E dovete prendere La Vediamo se Mela da subito Tastiera Ok Ok La luminite E Fate Qua Due 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 E due Non magari Lì La luminite Per avere Un Risultato Così Poi Ne mettete Anche Una qua Una qua E anche Dall'altra parte Dovete Metterne Altre Due Ok Uno qua E uno qua Allora Finisco il pavimento Ovviamente Lo faccio tutto Bianco E poi Vi faccio vedere Il risultato Come è venuto Quindi ci vediamo Fra poco E vi farò vedere Tutto quanto Il risultato Allora ragazzi Questo qua È il risultato E spero che il video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Lasciate un mi piace E niente Noi ci vediamo Al prossimo video E direi di salutarci Bye bye